Quando vuoi Chiara li può fare camminare e poi determinare la classifica. Allora, a partire da Auro oppure dall'altro bimbo, questa inizierà a camminare. Allora, un bello applauso per questi tre massetti bravi, bravi, bravissimi, forza, 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 forza. Dai Luca, forza, Luca. Bravissimi, non è una forza, eh. Complimenti. Allora, allora, Gioele, fai il terzo posto, bella prova, signore, e vai. E vai. Allora, premia il tormento di chiedo, un vecchio sinofilo del gruppo argentino. La caccia di Pisa, è un nostro giudice di esposizione. Scusa, potrebbe fare che giudice di esposizione, perché sono insetti moltissimi. Gioele, giudice di cani. Gioe, l'applauso e vado a mani. Gioe, prego. Dobbiamo consegnare le porte a Ivano, anche lì nella porta Giorgiano di Pisa. Gioe, l'applauso e vado a mani. Poi, insomma, consegna le relazioni. Grazie. Grazie. Signore, facciamolo dopo, dai le porte a Ivano. Gravi. È la propria. Grazie. E' questo qua. Attenuti amici. Allora, di mano dall'alto dei suoi oltre 40 anni di filosofia, sostegna a Joelle la coppa del secondo corso. Brava e brava! Noi cantiamo di Joelle a Viglia. Poi, la coppa del secondo corso va a Mauro. Allora, Mauro, la coppa del secondo corso. Allora, Mauro, la coppa del secondo corso. Eccolo, faccio il secondo corso anche insieme a Ivano e Mauro. Eccolo, il vincitore è Lusa! Ben applausi, signori! Noi sakura! A presto! Grazie! 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 Grazie!